Un romanzo di formazione che racconta storie, inquietudini e passioni dei personaggi, in questo caso scritto a quattro mani. La storia di Babi si colloca indubbiamente all'interno di questo filone e narra l'evoluzione della protagonista verso la maturità e l'età adulta con i suoi sentimenti, le sue emozioni, concentrandosi su pochi ma significativi passaggi. E' anche un'introspezione dentro di noi e anche un messaggio che si vuole condividere con chi è pronto a accoglierlo e anche con chi no. Un'occasione dunque per esplorare l'universo femminile, riassumendolo in una nuova ottica, nata appunto dall'interessante confronto tra le due diverse sensibilità dei due autori, Emanuele Upini, cartonist e scrittore e Barbara Iuppa, appassionata di sviluppo e crescita personale. Sicuramente è stata una scommessa interessante che ci ha regalato tanto a livello di soddisfazioni. E' molto stimolante perché non ero abituato a lavorare a quattro mani, quindi in coppia per un'opera così complessa. E diciamo che, ripeto, è una cosa stimolante, è stata molto stimolante, ma ci ha portato anche a confrontarci, il che non è poco quando bisogna scrivere qualche cosa che sia il più profondo possibile.